Vi auguro una serena giornata con questo messaggio. Anima gemella, questo è il momento per una nuova storia d'amore con una forte base spirituale. Il tuo desiderio di una meravigliosa storia d'amore si è manifestato e ti vengono date indicazioni per creare o mantenere questa situazione proprio ora. Questa relazione ha una profonda base spirituale ed entrambi condividete una fede autentica e profonde convinzioni. Tu e il tuo partner avete lo stesso orizzonte spirituale e siete di vedute aperte quando si tratta di imparare o sperimentare nuove cose. Ora questo tipo di relazione arriverà in un modo spontaneo. Tuttavia se sei preoccupato o cerchi di forzare la riuscita della situazione potresti rallentarla. È importante che tu ti goda anche il processo che porta al risultato desiderato. Danza al ritmo del movimento che la tua manifestazione ha creato per te. Attrai il tuo partner con un atteggiamento accogliente e rilassato e sappi che il cielo si sta occupando dei dettagli per entrambi. Questo è il messaggio dal buongiorno.